Che cosa vuol dire? Comunque, realismo e quello cubismo. Due scuole praticamente contrapposte l'una con l'altra. Bello, bello questo padre. Ma sei scemo, Giovanni? Sei cretino? Hai rovinato la scultura di cristalloni? Non lo sapevo. Questa è la scultura di cristalloni? Ma se non sai neanche chi è, ma... Ma scusa, ma questo è il maestro del distrutturalismo. Eh, mia nonna ne ha casa due uguali, pensavo che fosse... Ma Giovanni, ma questa non è una sedia comune. No. Questo è il concetto di sedialità che il maestro cristalloni ha voluto rappresentare estrapolando la sedia dal contesto abituale in cui solitamente sta in una misera cucina ed elevandola ad universale. Non lo sapevo. Fistalloni. Fistalloni. Ti sei seduto sul concetto di Fistalloni. Guarda che Fistalloni pensavo fosse uno della Lega io. Ma che Lega? Fistalloni insieme a Joslin Gaugard ha la corrente del distrutturalismo. Sì, la corrente è alternata. Questo è bello. Nella sua semplicità... Questo è iperrealista. E se me lo concedi monocromatico. Sì. L'artista è Meteor. Meteor, già sentito. Meteor. È famoso, è Meteor. Uno dei più... Meteor. Meteor. Questo dico, questo è bello. Questo è estintore? Sì, dico, sei ispirato un estintore per... No, questo è un estintore, punto. Scusa, quella non è una sedia e questo è un estintore. Mi stupisco che tu non colga la differenza fra oggetto e sua rappresentazione. Fra realtà e opera d'arte. Fra immanenza e trascendenza. Ci sono voluti secoli di dibattito metafisico e ontologico attorno al concetto di rappresentabilità che l'uomo oramai ha introiettato e superato. Perdonami, caro. Ma va a fanculo. Venite, venite qua. Mettetevi di fianco a questo quadro che è considerato il capolavoro del museo. Osservatelo bene. Dopodiché, cosa ne dite? Eh, che qualche deficiente l'ha rovinato con un taglierino. Si vede, porca, vai. Ho fatto tre sbreghi, è chiaro, non c'è controllo. Poi mi indigno, ci sarà un motivo perché mi indigno. Fanno entrare chiunque, si riempiono le tasche di taglierini, fanno quello che vogliono. Noi non facciamo niente. Posso urlare al mondo la mia indignazione? Posso farlo? Quanta ignoranza! Bravo, quanta ignoranza ci vuole per fare una roba del genere, dai. Un minimo di testa. Non capisco, se tu sei ignorante, rimandi nella tua ignoranza, rimandi nella tua mediocrità. Ma invece sei invidioso, geloso, e vieni qua, dove ci sono persone che comunque si vogliono evolgere. Da che lato? A destra o a sinistra si vogliono evolgere? Ma ditemi dove sbaglio. Ditemi dove sbaglio. E cosa posso fare? Ma niente, Giacomo, ma tu anzi, cavolo, ma tu sei bravissimo, sai un sacco di cose, le spieghi, eh. Ma vercene. Giacomino, esistono i cretini? Esistono i cretini, giusto? Sì. Purtroppo sì, e sono anche molto vicini a noi. Molto più di quanto non si creda. Molto più di quanto non si creda, bravo. Tu non ti sottovalutare mai, perché tu sei un diadema di questa società. E' grazie a te che il mondo va avanti. E' grazie a te che io oggi so qualcosa. Niente, però, questo è un altro discorso. Ditemi almeno chi l'ha fatto. Eh, saperlo. Vedi che calci nel culo gli davamo. Se lo beccavamo mentre lo faceva. Vincere la prima volta che diamo calci nel culo. Oh, abbiamo beccato una volta uno che rigava una macchina. Ascolta questa storia. Lui l'ha preso al volo, io da dietro. Pam, pam. Tre isolati a calci nel culo. Prova a chiedergli a quello lì, sai, intenziona ancora di rigare le macchine? Non lo fa più. Perché queste servono. E' certo. Sì, Giacomino, ogni tanto, se non sempre, ma ogni tanto servono. Lucio Fontana. Ah, si sa chi è. Ah, l'ha beccato. Ah, beh, meno male, almeno uno, una volta. Allora la giustizia funziona. Dieci anni gli devono dare. Sì, e che cavolo. Prenderne uno per prenderne cento. Cioè, prenderne uno, prenderne cento. Prenderne uno per prenderne cento. Cioè, voglio dire, ci sono questi cento che camminano a stormo. Adesso, voglio dire, fra cretini si ritrovano e camminano tutti così. Tutti a stormo così, come ogni tanto, come gli stormi proprio, no? Che si allargano, si stringono, no? Camminando. E danno anche fastidio da vedere, voglio dire. Poi c'è qualcuno che al centro dello stormo non riesce a respirare, ha bisogno di aria. Allora si fa strada fino a che arriva nella zona limitrova dello stormo e spinge quello che è già lì. E questo qui si perde dal gruppo e viene preso. Quindi, prenderne uno per non prenderne 99. Non credo che fosse così, però... E' nato nel 1906 un vecchio, eccolo lì. Ma porca vacca! Ma la salì lì a guardare gli scavi in strada che sono contenti. Ma sì, la salì lì. E va la rispa che la tirassi una roba. I tipi che vanno lì a operare. E lì passano il tempo e sono contenti. Ma perché li devi far venire? Qui che non c'è più la testa. Ma non lo so, voglio dire... Allora, se sei un vecchio perché sei un tenero e hai bisogno di tutte le... No, voglio dire, se tu sei stato un cretino da bambino, sarai un cretino anche da vecchio. Eh, non indicare, però... Non è? Voglio dire, se tu nasci torto, Giacomiglio, muori torto. Ancora? Se tu nasci dritto, non è detto che mori dritto. Puoi anche morire torto. Ma se nasci torto, non puoi morire dritto. E non lo dico io. Lo dice un greco... La Palizia, un greco... Ma... Proprio... Della Grecia, proprio. È nato a Rosario in Argentina. Un'estracomunitario. Ma porca vacca. Ma tu li accogli qua e loro non se ne fregano delle regole. Non gli interessa niente. A casa loro fanno una roba del genere. Ti tagliano le mani e vengono così. E invece qua puoi fare con le... Perché? Perché nessuno rispetta più le regole. Ma non so, perché glielo si lascia fare. Vedi, noi siamo stati immigrati a nostra volta. E quando siamo andati a casa di questi... E quando siamo andati a casa di questi...